L'economia di Antigua e Barbuda attualmente siamo a St. Jones, che è la capitale di Antigua Antigua fa parte di uno stato insulare gemello. Antigua è l'isola principale ma ha un'isola sorella chiamata Barbuda che si trova a circa 35 a nord di Antigua. Per raggiungere Barbuda ci vogliono circa 20 minuti in aereo e circa 90 minuti in barca Antigua a una superficie di circa 108 miglia quadrate o 280 chilometri quadrati. Ci vorranno circa 7 a 8 ore per percorrere l'intera isola di Antigua Barbuda a una superficie di circa 62 miglia quadrate o 161 chilometri quadrati. La capitale della Barbuda è Codrington L'economia di Antigua e Barbuda è basata sui servizi. Con il turismo e i servizi governativi che rappresentano le principali fonti di occupazione e reddito. Il turismo rappresenta direttamente o indirettamente più della metà del PIL ed è anche la principale fonte di valuta estera ad Antigua e Barbuda. Tuttavia, una serie di violenti uragani a partire dal 1995 hanno provocato gravi danni alle infrastrutture turistiche e periodi di forte riduzione del numero di visitatori. Nel 1999 il lucroso settore finanziario offshore è stato gravemente danneggiato dalle sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito a seguito dell'allentamento dei controlli sul riciclaggio di denaro. Il governo ha compiuto sforzi per soddisfare le richieste internazionali al fine di ottenere la revoca delle sanzioni. La produzione agricola della doppia nazione insulare è diretta principalmente al mercato interno. Il settore è limitato dalla limitata fornitura di acqua e dalla carenza di manodopera che riflette la spinta dei salari più alti nel turismo e nell'edilizia. Le prospettive di crescita economica continueranno a dipendere dalla crescita dei redditi nel mondo industrializzato, in particolare negli Stati Uniti, in Europa e in Canada, che rappresentano la maggior parte degli arrivi turistici.